Muovere l'olio di Puglia al via il progetto come annuncia Coldiretti con il consorzio valorizzazione olio di Puglia alla presidenza Pantaleo Piccino Salentino di Caprarica di Lecce, vicepresidente Maria Di Martino di Trani. Il marchio IGP olio di Puglia avrà un luogo distintivo con un'antica moneta romana che simboleggia la Puglia e il suo legame storico con l'olivo. Il brand IGP garantirà che l'olio extravergine sia di alta qualità, dice il presidente di Coldiretti Puglia Savino Muraglia, con parametri chimico-fisici ed organolettici di assoluto valore. Faccia bene alla salute perché il disciplinare prevede che solo oli con un elevato livello di polifenoli, i più importanti antiossidanti naturali, possano diventare IGP, certificando le proprietà con un apposito claim salutistico in etichetta previsto dall'Unione Europea. Sia un olio sempre fresco perché dovrà essere imbottigliato entro l'anno di produzione e sia di assoluta provenienza regionale. Un olio certamente made in Puglia sia per la produzione delle olive sia per la trasformazione in olio, ma anche per il confezionamento che dovrà essere effettuato a una distanza definita dal luogo di produzione. Il tutto mentre nel mondo il consumo di olio extravergine d'oliva è aumentato del 49% in 25 anni. La produzione lorda vendibile del comparto olivicolo oleario in Puglia è pari al 20% della totale PLV del settore agricolo per un valore di 750 milioni di euro.